un desiderio di morire che in qualche modo va collocato nell'ambito della sofferenza mentale che il soggetto depresso sperimenta una sofferenza mentale fatta di disperazione di mancanza di aspettative future il tempo vitale che diventa stagnante tutti quegli elementi che danno vigore alla vita vengono in qualche modo messi in discussione quindi soggetto può essere anche circondato da affetti da condizioni piacevoli ma non riesce a vedere non riesce a trarne spunto quando questa sofferenza diventa dilagante supera la soglia di sopportazione che è specifica unica per ogni singolo individuo lì il soggetto vede l'idea di voler morire come una condizione risolutiva come qualcosa che apporterà sollievo e quindi se parliamo di ideazione suicidaria attiva ci poniamo nella condizione del fatto che il soggetto può mettere in atto un gesto suicidario quindi anche un tentativo di suicidio o un esito appunto suicidario e dunque a noi spetta l'onere appunto di contenere farsi carico dei soggetti che sperimentano questa condizione